Quello che è successo oggi in Commissione è davvero al limite dell'assurdo, sia dal punto di vista tecnico, amministrativo, rispetto del regolamento calpestato completamente dal Presidente Quaglieri, se ne è fregato assolutamente, ha iniziato una votazione, ha visto che non aveva i numeri, l'ha interrotta, ne ha aperta un'altra, mancando di rispetto non solo alle opposizioni ma soprattutto al regolamento di questa Regione, ai lavori, alla parte del servizio amministrativo che era il suo supporto, che ovviamente non era d'accordo, ma il Presidente è andato avanti per la sua strada calpestando ogni norma di questa Regione, ogni regolamento di questa Regione. Dall'altro canto invece c'è l'aspetto politico, qualcosa di assurdo, la maggioranza che sfiducia la maggioranza, sono otto mesi, ormai quasi un anno, che c'è una proposta di regge, la firma della consigliera La Porta, politica in materia di beni e attività culturali, la Giunta regionale scavalca, per non dire calpesta, una consigliera di maggioranza in quota Lega, presenta una sua proposta di legge, la 243, di iniziativa della Giunta regionale e in quinta commissione la si mette al voto, si cerca di far andare avanti quella dell'assessore Da Mario calpestando la consigliera La Porta, ma andando ai voti non passa. Viene bocciata, la maggioranza boccia se stessa, le opposizioni hanno più numeri della maggioranza stessa che abbandona l'aula, ovviamente in imbarazzo incredibile, ma fatto sta che questa maggioranza non ha più nemmeno i numeri per qualificare un progetto di legge di un suo assessore. Non hanno i numeri, non sono in grado più di governare e l'imbarazzo di questa regione davanti agli occhi dei cittadini ormai secondo me ha raggiunto limiti che non sono più tollerabili. Speriamo vada a casa presto, se quello che abbiamo visto oggi è l'inizio credo che alla fine sia molto vicina.